C'è stato un piccolo problema di connessione, niente, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, no non sono scappato in preda al panico, non ho dampato tutto ma semplicemente ho premuto il pulsante sbagliato, lo ammetto, al posto che inizia registrazione ho premuto termina streaming, ma siamo di nuovo qua quindi non ci cambia nulla. Comunque oggi siamo live per il secondo giorno di fila perché ieri vi ho come dire tenuto compagnia in un giorno straordinario in quanto abbiamo saltato il giorno di Pasquetta per prendercelo come festivo e anche Bitcoin ha seguito un po' il nostro andamento, ovvero siamo stati a casa noi, ci siamo fatti i cavoli nostri, non si è mosso più di tanto, siamo ritornati sul pezzo e che cosa ci combina Bitcoin? Bitcoin inizia a muoversi in maniera un po' ecco più, come si dice, più concitata, chiamiamolo in questo modo, tuttavia come potete vedere dal titolo che spero nel frattempo non mi abbia cambiato, no fortunatamente no, il mantra di oggi è no panic perché non sta succedendo assolutamente niente, un po' di volatilità ormai dovremmo imparare a digerirla solo con lo sguardo da parte di Bitcoin e soprattutto se si tratta di una volatilità tutto sommato contenuta perché guardate un po' com'è la situazione, insomma non... cioè, mi vedete male? No, perché... dunque, ditemi un po' se mi vedete male, se non vedete, se succede qualcosa, ok no, perché sto andando, sto guardando un po' quello che state scrivendo e vi vedo un po' impanicati voi, no, tutto a posto, bene. Allora, no, si era bloccato tutto, rifresciate la pagina se vi succede qualcosa di strano, comunque no, vi stavo dicendo che semplicemente Bitcoin si sta muovendo di pochi punti percentuali, non ha perso dei supporti importanti per ora, quindi non c'è motivo di farsi prendere dal panico, anzi, potrebbe addirittura essere un'opportunità, quindi, prima di fare mosse date dalla concitazione, dalla FOMO, dalla volontà di, che ne so, fare qualsiasi cosa in maniera troppo frettolosa, oggi ci fermeremo a ragionare, osserveremo come al solito i nostri livelli chiave, andremo a vedere quali dobbiamo tenere d'occhio, quando possiamo sì farci prendere dal panico e quando invece non è ancora il caso, anzi, potrebbe essere il caso di costruire una posizione in accumulazione. Un piccolo spoiler ve l'avevo già dato ieri, perché avevamo visto un po' la, insomma, la situazione della configurazione che si sta creando su Bitcoin, che non è cambiata, perché, ripeto, oggi si è mosso del 2-3%, quindi non ha assolutamente cambiato le carte in tavola, però, insomma, oggi facciamo un quadro completo e cerchiamo di capire tutto, dall'A alla Z. All time I raggiunto per il mio ciuffo. Ragazzi, è una roba terrificante, tra l'altro mi son fatto la barba di volata prima di entrare qui nel live e ho rischiato veramente di sfregiarmi, vabbè, lasciamo stare, non andiamo off topic. Prima di andare a leggere le vostre domande, che ve ne voglio vedere tante, vi voglio vedere belli carichi anche oggi, perché sì, sono due giorni di fila, però di solito quando ci lasciamo avete tantissime domande in coda e quindi oggi approfittatene, approfittate di questo appuntamento extra, fatemi quelle che volevate farmi ieri, bombardatemi, insomma. Però prima vi butto lì un paio di chicche, giusto che oggi sono successo un po' di cose, c'è un po' di movimento. La prima è questo launchpad da record di Binance, che si chiama Tocco Crypto, di cui tra l'altro mi avevate anche chiesto qualche giorno fa, io non l'avevo particolarmente approfondito perché il mio approccio verso i launchpad è molto molto semplicistico. Io partecipo a tutti con i BNB che ho, che è uno dei motivi per cui detengo una certa quantità di BNB, è proprio la possibilità di partecipare a questi launchpad con una quota maggiore, con una probabilità maggiore di ottenere la coin stessa, ok? Le coin che vengono vendute. E quindi poi quello che faccio è venderle al giorno 1, banalmente, di solito storicamente questo tiene ottimi risultati, e questo alla fine è come se fossi, io lo vedo quasi come un dividendo su BNB, perché poi li utilizzo in parte per riacquistare i BNB che ho dato impegno per partecipare, e in parte diventano utile, che poi vado a ridistribuire nella mia allocazione complessiva. Quindi, ripeto, una sorta di dividendo che mi dà i BNB. Di certo non mi metto a tenere 10.000 token diversi dei vari launchpad, perché poi perdo totalmente di vista il mio portafoglio e divento un portafoglio da gambler. Il launchpad di oggi, che si chiama appunto Tocco Crypto, in sostanza, che cos'è? È un exchange indonesiano, molto famoso, tra l'altro attivo già da anni, e apparentemente è il più famoso del paese, forse anche l'unico, non lo so, non conosco il mercato locale. Come mai adesso è su Binance Launchpad? Perché? Non so se avete a conoscenza il programma Binance Cloud, adesso avevo indagato un po' per conto mio, aspettate che vi faccio un po' vedere la pagina stessa. Nel frattempo ogni tanto controllo che si veda tutto bene, voi confermatemi sì, eh no? Mi sembra di sì. Perché, insomma, prima mi avete detto che c'era un po' di problema di streaming, ma adesso sembra andare. Comunque, vedete, Tocco Crypto è questo exchange qua, che è molto simile a Binance come look, perché, vedete, qua in piccolo c'è scritto Powered by Binance Cloud, che in sostanza è il programma di hosting di Binance, che ti permette di utilizzare la sua infrastruttura per ospitare di fatto il tuo exchange. Poi non so come funzioni esattamente. Quindi c'è stata questa sorta di incubazione dell'exchange Tocco Crypto da parte di Binance, e è stato emesso, non so con quale politica, con quale logica ancora, però penso che sia una sorta di BNB dell'exchange Tocco Crypto, questo token TKO, che è un token BEP20, quindi sulla Binance Chain, creato sulla Binance Chain. I numeri che ha fatto sono stati assurdi, perché c'è stata una partecipazione saturata di 567 volte, 201.000 partecipanti, pensate voi che roba, e la roba ancora più assurda è che il prezzo di vendita al launchpad era di 0,10 dollari, e adesso è scambiato a 3,15 e fino a poco fa era sopra i 4, quindi ha fatto al momento 31 per e poco fa era 40 per, quindi veramente atroce. I launchpad finora sono una garanzia al giorno 1. Poi qualcuno mi ha già chiesto, ma entro adesso, compro adesso, conviene, secondo te? Secondo me, comprare adesso equivale a prendere una moneta e lanciarla. Se c'è testa guadagni, se c'è croce perdi, non c'è niente di diverso, ok? Perché? Perché come fai a dare un prezzo, a valutare un token, che appena è stato listato su un mercato? Non c'è assolutamente modo, quindi uno può dire, sì è un exchange molto utilizzato in Indonesia e tutto quanto, ok, però non abbiamo storico di mercato del token, quindi come si fa a dargli un valore percepito. Il mercato è ancora assolutamente immaturo, è in uno stadio di, appunto, scommessa, così almeno la vedo io. Io non opero mai, non investo mai nei token appena listati per le motivazioni che vi do molto spesso, soprattutto, appunto, la mancanza di storico, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista fondamentale, quindi mancano i risultati, cioè la piattaforma non ha ancora ottenuto risultati concreti. Cosa vuol dire concreti? Vuol dire che sia attivo dal 2018, quello che è, però l'implementazione di questo token è recente e quindi bisogna capire come verrà portato avanti, perché una cosa è l'exchange e una cosa è il token. Se c'è un exchange che non implementa in nessun modo il token, non dà benefit, non fa i burn, non fa varie cose, insomma, capite bene che il token di per sé vale fino a un certo punto e quindi questo è il mio punto di vista. Poi passiamo a un altro exchange che è FTX. Oggi è stata ufficializzata una partnership di cui noi parlavamo già da un po' di tempo, perché se vi ricordate la notizia dello stadio di Miami, lo stadio di basket di Miami, dei Miami Heat, aveva, c'era un po' questo, come si può chiamare, questa fase commerciale in corso, no? Per capire quanto sarebbe costato a FTX dare il nome dello stadio di basket di Miami, dargli il nome FTX Arena. Poi era stato, mi pare, quantificato sui 190 e qualcosa milioni e oggi è stato reso pubblico, è stato reso ufficiale, anzi, la partnership tra i Miami Heat e FTX.us, che è la branca americana appunto dell'exchange FTX. E questa, beh, direi che è una notizia comunque notevole, perché mette vicino un nome quale, caspita, i Miami Heat, cioè, mamma mia, sono una delle squadre dell'NBA più conosciute in America e non solo in America, e un exchange di criptovalute che è come loro sponsor principale, quindi come loro partner, cioè, è una cosa che porta sicuramente in vista di molti il mondo delle cripto e ovviamente FTX. Però a me di FTX sinceramente me ne frega fino a un certo punto, a me fa piacere che magari questo aiuta a dare più legittimità, più visibilità ed esposizione al mondo delle cripto stesse. Vi ho detto una bugia, a me interessa anche di FTX perché io ho investito in FTT, però mi interessa sicuramente meno rispetto al vedere una buona visibilità e una buona nomea al mondo delle cripto grazie a queste cose. Ultima cosa, il report degli utili del 2021 di Coinbase, la notizia un po' più importante del giorno, perché, come sapete, l'avevamo accennato proprio ieri, vi avevo detto, tra poche ore uscirà il report degli utili. Quando un'azienda si quota in borsa, deve rilasciare, per forza di cose, in maniera periodica, il report dei suoi utili, del suo bilancio, in sostanza per gli investitori, perché se un'azienda è pubblica, le persone ci possono investire, bisogna informare le persone di come funziona, se funziona bene o male questa azienda. E quindi tutto questo per dire che sono stati rilasciati proprio ieri sera, in ora italiana sarà state le 10-11 giù di lì, e il report degli utili del primo trimestre del 2021. E i numeri, caspita, sono veramente importanti, perché il numero di utenti è cresciuto, aspettate che vi trovo anche la cifra, allora ci sono 56 milioni di utenti verificati, avevo visto che era tipo quadruplicato il numero degli utenti rispetto al 2020, ma fondamentalmente quello che ci importa di più è che l'utile generato da, cioè il revenue, quindi il fatturato, chiamiamolo generato da Coinbase, è stato di 1,8 miliardi per un trimestre, cioè, abbastanza notevole. Questo se lo paragoniamo con, ad esempio, Robin Hood, che sta lavorando anche lei per la sua IPO, che è un po' la controparte, chiamiamola così, di Wall Street, perché, secondo molti, è quell'applicazione, quella piattaforma che ha avvicinato i giovani, ha avvicinato molte persone allo stock market, caspita, Robin Hood ha un utile che è 700 milioni in meno rispetto a quello di Coinbase, e un numero di utenti che mi pare sia, l'avevo scritto nel post che avevo condiviso oggi, non mi ricordo adesso il rapporto esatto, però è nettamente minore anche quello. Ecco, io mi aspetto da parte di chi magari era scettico rispetto all'industria delle cripto in generale, non parlo del prezzo di bitcoin o di cose specifiche, parlo proprio dell'industria delle cripto, chi dice, ma è una roba che non esiste, ma, caspita, guardate queste cose qui, cioè, comparate queste due piattaforme che hanno un target molto simile. Coinbase ha risultati decisamente migliori, dati alla mano, rispetto a Robin Hood. E non lo so, ognuno la digerisca come vuole, ok? Poi sicuramente qualcuno dirà, sì, ci credo con le fee di Coinbase, e avete anche ragione, perché avevo letto poi alcune stime con altri exchange, che avevano gli altri exchange un revenue molto più basso, nonostante i volumi molto più alti. Poi, vabbè, Coinbase ha tutta quella parte dedicata agli istituzionali, che di sicuro gli cuba tanto dal punto di vista delle entrate. Però, non andiamo troppo nel dettaglio, vi volevo soltanto presentare appunto questi dati, che sono dati molto forti e molto importanti per, ripeto, la legittimità dell'industria delle cripto verso il grande pubblico, soprattutto il pubblico di investitori di Wall Street. Sono curioso di vedere che effetto avrà poi in futuro sull'industria stessa, e soprattutto, caspita, se si dovessero rivelare e degli altri big player come, non lo so, Binance o Simili, vedere qual è il loro utile, secondo me qualcuno si spaventerebbe, direbbe, mamma mia, esistono numeri così grossi? Vabbè. Comunque, chiusa questa parentesi, vi volevo dare, condividere soltanto queste notizie, adesso Bitcoin ci farà il dampone in diretta alla faccia del nostro No Panic, no, no, assolutamente no. Noi non ci facciamo prendere dall'agitazione e ragioniamo con la testa, con razionalità. E come al solito, cerchiamo di prendere le cose nel modo furbo. Adesso mi metto a leggere le vostre domande, però volevo fare questo preambolo, perché le analisi da fare sui grafici sono sempre da prendere, non come predizioni del futuro. Io ve ne prego, ogni tanto quando sento dire la predizione di che prezzo avrà tra tot e ma doveva salire, invece è sceso, no, non esiste niente del genere, io mai dirò niente del genere, io non farò mai una predizione del prezzo, non vi dirò mai domani sale, dopo domani scende. Dobbiamo semplicemente guardare il grafico, fare delle, applicare delle strategie, degli scenari, e per ognuno di questi scenari approcciare in un certo modo. Se noi diciamo bene, in questa situazione c'è uno scenario più probabile per cui si potrebbe costruire una posizione long con dei certi entry, con uno specifico stop loss, con un certo approccio che può essere trend follower o meno, non vuol dire il prezzo salirà, cioè sia chiaro questo, mi raccomando, è importante capirlo, perché altrimenti uno non potrà mai diventare trader se utilizza un approccio di questo tipo predittivo, non esiste la predizione, la predizione la fa la sfera di cristallo, ma la sfera di cristallo vi dice, se l'ha scrollata una volta, dice, eh, bitcoin sale, adesso la riscrollo, bitcoin scende, la riscrollo ancora, mi dice che lateralizza. Quindi, mi raccomando, qualsiasi predizione leggiate ha la stessa validità della sfera di cristallo. Quindi, partendo da questo presupposto, noi cerchiamo di rimanere razionali e cogliere quello che il grafico ci dice. Ma prima io leggo le vostre domande, perché vi voglio vedere, insomma, sul pezzo. Quindi, 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 partiamo dall'alto. Partiamo dall'alto, allora, qua, da 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 da, con 5.000 euro totali, come diversificheresti in percentuali un portafoglio in questo momento preciso? Grazie a infinite, sei un grande. Guarda, io ho fatto due video, uno come investirei 1.000 euro e uno come ne investirei 10.000. Io ti direi, prova a guardarli entrambi e lo so che è una cifra che è l'esatto punto medio, quindi mi direi, beh, come faccio a capire? Se tu li guardi entrambi, magari guardati anche quello sui 100.000, ma non perché uno deve investire 100.000. Io ho fatto quella serie per un motivo preciso, non per dare una cosa da copiare pari pari, anche lì, ma per stimolare un ragionamento, che poi spiego bene nei video, che è di dire, bene, che cosa cambia tra l'avere un capitale X, 10X o 100X, cioè cosa cambia tra i diversi ordini di grandezza del capitale che io ho? La cosa che cambia è la propensione al rischio, quanto sono aggressivo, quanto punto sulla volatilità, quanto punto sulla speculazione e cose di questo tipo. Quindi, tu cerca di capire quello, quanto vuoi essere aggressivo col tuo portafoglio e in base a quello magari ti orienterai di più su una strategia simile a quella che ho mostrato per investire 10.000, che è più ovviamente conservativa di quella di investire 1.000, oppure, ripeto, quella per investirne 1.000, che è un po' più aggressiva e risk-oriented, come dicono a Wall Street. Luke, il pronostico ambulanza si fa ancora, o ormai sei troppo mainstream? Guardo, ultimamente, per fortuna, ne passano molti meno, quindi è da un po' che non, diciamo, è una cosa caduta un po' in disuso. Grande, infatti, il nostro Termination Shock, che è sempre sul pezzissimo, dice, direi che ti basta copiare, no, perché copiare è una parola che non mi piace mai, però prendere spunto, diciamo, utilizzare come fonte il mio portafoglio che ho pubblicato su YouTube. La moneta mi ha detto testa, devo comprare? Assolutamente sì, testa si compra e croce si vende, mi raccomando. Cosa ne pensi dei Masternodes? Non ti ho mai sentito parlarne. Guarda, io, quando leggo la parola Masternodes da qualche parte, giro la testa altrove, perché era una roba che andava di moda nel 2017, sotto sempre la categoria mistica della rendita passiva, ma poi, fondamentalmente, è un po' morta lì. C'era Dash, che era il capo stipite dei Masternodes, ma dopo che è un po' teso verso il nulla, Dash, diciamo che l'intero mondo dei Masternodes è un po' teso anche lui verso l'inesistenza, anche perché è un modello che porta una componente di centralizzazione, quello dei Masternodes, e quindi, insomma, l'evoluzione naturale del mondo blockchain l'ha portato un po' in secondo piano. Questo è il risultato. E quindi, personalmente, è un settore da cui sto lontano, che spesso, tra l'altro, ci sono un sacco di scam che usano, abusano della parola Masternode per andare a giustificare delle rendite passive che poi non hanno nessun tipo di senso. Ciao Luca, per il launchpool su token TLM, sempre su Binance, consigli sempre di muoversi nella tua maniera? Allora, io ovviamente non consiglio nulla, perché ognuno poi ragionerà da sé, ma io mi muovo sempre nella stessa maniera, perché il mio approccio è di quel tipo lì, lo sapete. Io non volendo allocare risorse uguale capitale in coin neonate, io quello che faccio è utilizzarle semplicemente per profitto rapido. Di solito, visto che comunque io ho a disposizione i BNB, di solito hanno un pump importante le coin neolistate e quindi io mi concentro su quelle quando ci sono le opportunità di farmarle. E non farà eccezione in questo caso, perché io le farmo il giorno che vengono listate le dampo a mercato e poi ribilancio il farming in base agli APY più vantaggiosi. Adesso ovviamente non c'è l'APY per quella semplicemente perché non ha ancora un pricing. Ma si può mettere un limit sell prima che venga listato un token dal launch pool? Se ne possiedi già un po'? Allora, prima del listing sull'exchange mettere degli ordini? No, non puoi. A volte aprono il trading tipo 5 minuti dopo il cioè o meglio a volte quando si apre cioè quando inizia il listing intendo cioè inizia lo scambio del token sull'exchange c'è una finestra di 5 minuti dedicata solo ai market maker quindi a mettere i limit order quindi in quel caso lì se si arriva presto a volte ci si riesce mentre se intendi ancora prima di quello cioè mettere degli ordini prima del listing no è assolutamente impossibile ciao Luca come si possono vendere tutti i nuovi vedere tutti i nuovi lanci di token ma guarda io di solito seguo solo quelli di Binance quindi banalmente sono iscritto al canale Telegram Binance Announcements si chiama e lì seguo un po' attivate le notifiche così tutte le le novità di Binance mi arrivano su Telegram altrimenti ma sicuramente ci saranno altri canali Telegram che ti notificano tutti i lanci non saprei io ve l'ho detto seguo solo quelli per evitare l'overflow di notifiche inutili ciao Luca volendo avere un portafoglio composto da Bitcoin Ethereum e da un altcoin minore per poi tenerlo bilanciato in che percentuali converrebbe suddividerlo grazie guarda mi piace come approccio perché avere un po' di Bitcoin un po' di Ethereum e un po' di altcoin non è diversificato in 100.000 altcoin senza senso e soprattutto mi sembra una scelta abbastanza razionale tuttavia al di là di questo io personalmente ho condiviso con voi in diverse occasioni come ce l'ho come come allocato ti dico io farei personalmente ripeto poi dipende da molti fattori magari ne parliamo anche come come modificarle percentuali Bitcoin la maggioranza indubbiamente quindi un 60 70% Ethereum la restante maggioranza quindi ad esempio 60 30 e 10 l'altcoin per dirne una oppure addirittura 60 35 5 dipende da varie cose come dicevo una delle quali è sempre la propensione al rischio maggiore è la propensione al rischio e maggiore è l'allocazione che si potrà tendere a dare sulle altcoin rispetto a Bitcoin Bitcoin è a minor rischio rispetto alle altcoin si parla banalmente di volatilità e poi vabbè c'è tutto il discorso sulla scelta dell'altcoin che fa parte della cosa personale dello studio dei fondamentali e della decisione su che cosa vorremmo investire ci sono addirittura persone che allocano quasi tutto sulle altcoin oddio se uno vuole la volatilità quello è il modo però bisogna essere pronti anche a subire un'ingente perdita nel caso in cui la volatilità ci si rivoltasse contro poi poi vediamo ho degli adesivi di Bitconnect li ho ritrovati dopo un secolo e mezzo credo di attaccarli sullo specchio per ricordarmi di evitare le minchiate per fortuna non ci avevo messo soldi sai cosa potresti farci un NFT ci fai un bel NFT e lo vendi come come memento ecco bello bella idea dunque 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 ciao Luca per prendere profitti e reinvestirli subito meglio convertirli in USDC o USDT ma non c'è nessuna differenza perché che dire per reinvestirli subito non ti cassa forse USDT perché hai più flessibilità di conversione c'è più liquidità se cioè il discorso dell'usare USDC anziché USDT ha più senso sul lungo termine perché USDC è meno volatile lo dicono i dati e poi insomma c'è tutto quel discorso sulla non trasparenza di USDT bla 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 dunque 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 i launchpad di Binance non sono più rischiosi dei launchpool i launchpool capiscono bene come funzionano i launchpad no assolutamente sì hai centrato il punto perché allora in sostanza tu con i launchpool vai a farmare senza intaccare il tuo investimento iniziale ovvero tu depositi BNB BUSD tutti i token che ci sono e ricevi su di essi un interesse nel nuovo token quindi tu dici benissimo non ci perdo nulla male che vada il nuovo token è una shitcoin non vale niente io ho un profitto di zero con l' launchpad invece è diverso perché vabbè c'è tutta una lotteria visto che la domanda è elevatissima per scegliere chi partecipa e chi no in sostanza questa lotteria si basa su quanti BNB uno ha e su altri fattori che non vi spiego ora perché è complicata e noiosa e sinceramente non me la ricordo neanche più di tanto c'è mai stato un launchpad in perdita la risposta è no finora che io sappia e il peggiore ha fatto tipo per 2 per 1.8 una roba del genere giusto per capire e in sostanza stavano dicendo i launchpad invece tu usi poi i BNB perché tu paghi in BNB per fare per acquistare il token in prevendita immaginiamoci questo e che altro quindi basta tu però spendi i tuoi BNB in cambio del token a un prezzo fissato dal launchpad stesso è una vendita iniziale come una ICO ospitata dall'exchange Binance di fatto è più rischioso perché tu hai investito dei BNB che nel peggiore dell'ipotesi in cui il nuovo token è una shitcoin e vale zero tu li hai persi ok questo è il discorso poi che succeda non succeda e in realtà ha sempre fatto dei multipli e quindi perdere è impossibile è un altro discorso non c'è mai l'impossibile perché può sempre esserci una prima volta però è più rischioso la risposta è assolutamente sì sia rischio che rendimento sono potenzialmente più alti allora 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 cosa ne pensi della carta di crypto.com da 3500 euro in stake userei tutti i benefici ma quel che mi preoccupa sono i 3500 euro di cro è un brutto momento la roadmap di crypto.com ce la posso fare mi sembra buona che dice l'analisi allora guarda qual è adesso che chiede 3500 euro la verde mi pare di sì se non erro io ti dico io la possiedo cioè ho la verde e mi trovo da dio l'avevo fatta al tempo quando servivano 10.000 cro in stake io ti direi fatti innanzitutto due conti in tasca l'avevo fatto anche quando al tempo avevo fatto sempre il video sulla carta di crypto.com avevo fatto delle ipotesi in base a quanto uno spendi cashback eccetera quanto tempo ci mette in sostanza a recuperare la spesa che poi non è una spesa ma è uno stake come giustamente dici e saltava fuori che vabbè la rossa era una roba pazzesca perché nel giro di pochi mesi tu recuperavi tutto la verde anche ci mettevi un po' di più ma poi ovviamente avevi una curva di profitto migliore perché ti dà un cashback più alto fondamentalmente tu parti da quello per il discorso invece sulla bontà o meno del token cro ti dico oggi purtroppo noi facendo un po' di analisi l'avevamo seguito i giorni scorsi e avevamo notato la possibilità di questo triangolo rialzista che purtroppo è stata negata cose che capitano vedete quindi se si fosse presa una posizione preventiva long aggressiva con stop loss sotto a questo minimo precedente sarebbe saltato ma questo per dire che ripeto è stato violato questo triangolo ascendente quindi l'ipotesi che dicevamo di possibilità di breakout e accumulazione preventiva al momento non vale più quindi dal punto di vista meramente speculativo ovviamente conviene attendere un reclaim un recupero degli 0,23 0,24 avere il breakout effettivo però se uno punta allo staking per avere la carta dovrebbe quasi ragionare al contrario non so come spiegarmi cioè meno costa cro e più sono contento perché comunque io sto facendo un'accumulazione tendenzialmente a lungo termine mi aspetto quindi se con 3.500 euro acquisto x cro ne acquisto 10 volte tanto dovrei essere più contento se ne acquisto 10 volte tanto di per sé crypto.com è un buon progetto sta facendo tante cose sta crescendo alla sua blockchain e quindi i fondamentali ci sono prezze fondamentali sapete che sono sempre due cose diverse però questo per dire che se uno vuole la carta e vuole semplicemente i servizi allora non vale la pena impazzire dietro al prezzo guardare il grafico eccetera anzi se il prezzo è un po' sceso ben venga e tanto meglio altrimenti se uno vuole speculare il discorso cambia ecco questo è un po' il riassunto della situazione poi torniamo a noi allora 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 ciao Luca sapresti dirci qual è la differenza nell'analisi dei grafici di una coin comparata con bitcoin usd euro eccetera per esempio il grafico litecoin bitcoin è totalmente diverso dal grafico litecoin dollaro assolutamente vero verissimo e fondamentale anche perché allora se noi andiamo a prendere l'esempio che hai fatto tu ovvero litecoin bitcoin noi vediamo un grafico che è abominevole guardate che che obrobrio cioè completamente decrescente un grafico che allontanerebbe anche gli scarafaggi probabilmente talmente brutto mentre se andiamo a vedere litecoin dollaro il grafico cambia completamente aspetto qual è la ragione vabbè a parte che questo grafico è più di lunga data prendiamo quest'ultimo intervallo le cose non cambiano la ragione è che il grafico litecoin dollaro ti va a prendere al suo interno anche l'effetto bitcoin l'effetto bitcoin è quello dato dal pump di bitcoin ovvero quando bitcoin cresce l'intero mercato tende a crescere ma noi dobbiamo porci una domanda che è importantissima conviene investire in bitcoin o conviene investire in altro perché se tutto il mercato delle altcoin cresce meno di bitcoin ma chi me lo fa fare di andare a cercare la shitcoin di turno e buttarci dei soldi quando posso investire in bitcoin guadagnarci di più e avere una coin che ha molto più valore e questa è la domanda fondamentale che va a far la differenza tra i due grafici il grafico litecoin bitcoin ti rivela se litecoin sta performando meglio oppure peggio rispetto a bitcoin e quindi ti dovrebbe far scegliere tra le due ti dovrebbe far far la domanda quale è meglio detenere litecoin o bitcoin e su questo grafico non dovremmo avere nessun tipo di dubbio vedendo quindi un grafico così uno il grafico litecoin dollaro non lo dovrebbe nemmeno guardare perché? perché alla peggio vado a vedermi bitcoin dollaro che sarà molto più bello visto che litecoin bitcoin è abominevole ecco spero di aver soddisfatto la tua domanda poi nel dibattito si guardano le altcoin in euro in USD in bitcoin o quello che è dipende molto anche dall'operatività che uno ha perché se ad esempio uno fa trading banalmente sia di bitcoin che delle altcoin direttamente dai dollari dalle stable per fare profitto rapido in stable allora forse non conviene fare tutto quel discorso che abbiamo fatto sulla conversione in bitcoin cioè conviene senz'altro guardare lo stesso i grafici alt bitcoin per scegliere ripeto se investire in bitcoin o in una alt però poi ovviamente si andrà ad aprire e chiudere il trade sul grafico altcoin dollaro una volta scelta l'altcoin sulla quale tradare col filtro anche del grafico altcoin bitcoin spero di non aver fatto troppa confusione i grafici in euro invece io li guardo il meno possibile perché di fatto è un mercato meno liquido più soggetto ad artifici a rumore di conseguenza insomma è un grafico che è un po' più sporco ecco questa è un po' la situazione lascio il grafico settimanale come sfondo allora 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 dunque dove siamo finiti il dump di oggi di bnb può essere dovuto al fatto che molti sono stati utilizzati per acquistare tko ti dico assolutamente no non c'è proprio paragone del volume movimentato verso tko rispetto al mercato complessivo di bnb in parte è dovuto al lo chiamo dump ma è un meno 3% quindi al ribasso di bitcoin e in parte è dovuto un po' a un effetto come si può dire hype che se ci fate caso quando binance annuncia un launchpad c'è più domanda per i bnb in particolare un launchpad che crea fomo che crea molta aspettativa come era quello di toko cripto quando è stato annunciato c'è stato un pump di bnb e quel pump lì insomma poi è destinato un po' ad esaurirsi quando il launchpad termina detto questo andiamo a darci un occhio al grafico bnb bitcoin che se ci fate caso tra le altcoin è una di quelle che ha performato meglio perché guardate dopo il breakout dal nostro range che avevamo seguito le settimane scorse ha tenuto botta assolutamente l'up trend e la candela di oggi quella ribassista non ha intaccato minimamente nemmeno quella di ieri quindi sarebbe stato un dump una roba brutta se la candela di oggi chiude qua potrebbe ancora succedere per l'amor di dio però se mi va a chiudere qua dai è una candela che è un bijou non è un dump non si può certo definire un dump ecco e quindi niente questo è tutto torniamo su bitcoin qua è il primo supporto che vorrei vedere tenere vorrei vedere la domanda se andiamo a pescare qua sotto la domanda che reagisce e sostiene qui vi ho dato un piccolo spoiler dell'analisi che verrà tra poco poi 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 vediamo vediamo ciao Liu potresti dirmi la tua su CRV credi che possa avvicinarsi ai suoi massimi quest'anno essendo in bullish andiamo a darci un occhio allora CRV BTC io di solito non lo vedevo benissimo perché è un po' tanto dumpabile Curve è un token interessante è il token di Curve che è una delle applicazioni di DeFi più che io stesso uso più usate in assoluto il problema è che si farma tantissimo cioè Curve è talmente usato che tutti farmano CRV e molti lo dumpano e quindi questo ha causato un po' il suo macro abbastanza bearish sai dire che è bullish non è prettamente corretto perché il macro il trend complessivo ribassista al momento sembra che stia facendo questa sottospecie di triangolo che è difficile dire come si svilupperà prima che accada sai vedi tac tac sostanzialmente si potrebbe anche qua agire di anticipo con degli entry e stop loss relativi sotto i minimi precedenti ma sai non lo so non visto il macro complessivo personalmente non cercherei una posizione ecco questa è la mia sincera opinione lato speculativo ovviamente poi lato investimento ci sono anche delle cioè Curve stesso permette ad esempio di bloccare i CRV per diversi anni per pompare le APY per ottenere più CRV c'è tutto quel discorso lì per l'investitore che ovviamente è diverso della speculazione poi 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 dunque dunque vediamo vado un po' avanti per le domande perché così leggo un po' tutti ci parli delle shitcoin come win e btt cosa fare quando scendono pesantemente è un problemaccio vostro che vi ostinate a holdare le shitcoin allora win btc andiamola a vedere ma poi ma poi come si fa allora no fondamentalmente questo è questo è un pump and dump bello e buono io personalmente non so come mai abbia pompato questa coin se c'è una ragione oppure no fatto sta che io mi auguro che voi nessuno l'abbia acquistata da queste parti cioè dopo il pump ma già acquistarla qui era una follia secondo me perché comunque dopo che l'ul cioè se proprio si voleva qua durante questa ultima accumulazione ma da qua in poi che ha stampato solo candele verdi solo i folli l'avrebbero acquistata detto questo ci vuole una politica da shitcoin nel senso di avere già in mente dove prendere profitto prima ancora di entrare perché io mi rifiuto di pensare che si voglia fare un investimento su una coin di questo tipo e per che poi per l'amor di dio se qualcuno ha le ragioni che ritiene giuste per fare l'investimento che lo fa cioè però ecco vabbè diciamo che potrebbe non essere il migliore del mondo detto questo che logiche ci possono essere qui anche la logica che si può applicare su bitcoin quindi quella di andare a osservare la struttura di andare a vedere certe situazioni sul trend non vale neanche più perché accade tutto talmente in fretta che non c'è manco tempo di andare a crearsi la struttura non ha nemmeno tempo ecco se proprio vogliamo andare a ipotizzare una situazione in cui potremmo avere l'exit ideale potrebbe essere al prossimo rimbalzo rialzista io mi aspetto che dopo un dump del genere un rimbalzo rialzista ci sarà allora qua ci sarà l'occasione di sell perfetta e dopo presumo ci sarà una continuazione ribassista perché questo mi puzza abbastanza di top in questo modo si può ridurre cioè aumentare il profitto io mi auguro sempre che si sia acquistata in basso quindi fare un profitto fin qua anziché fin qua e andare a ottenere un risultato migliore altrimenti si può chiudere una parte in un momento e una parte in un secondo momento ma in teoria già la candela engulfing bearish di ieri era un possibile segnale di uscita preliminare altrimenti si può andare a cercare la struttura sui time frame minori come le 4 ore o addirittura l'orario in un pump del genere quando si costruisce un top su un time frame più breve come può essere vedete questo che è stato anche ritestato dal basso allora questo è un segnale già di uscita per lo meno preliminare ripeto ecco questa è un po' la mia opinione oltre ovviamente al fatto che non mi sarei mai avvicinato a queste coin ma vabbè qua è un discorso che forse va un po' off topic rispetto alla tua domanda poi analisi di cro l'abbiamo fatta btc sbaglio o sta accumulando da paura sulle ultime tre grandi oscillazioni sento il profumo di roccia lunare pietra lunare come quella dei pokemon ne parliamo tra poco comunque ne parliamo tra poco allora 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 finalmente spulciando nei tuoi video più datati ho scoperto chi è testa di bronzo una leggenda una veramente leggendario sarebbe interessante un video riguardo alla supply e alla correlazione che questa ha con il prezzo di una coin perché nel tempo ho visto coin che venivano bruciate per ridurre supply e altre incrementarla ma è prevedibile questa cosa guarda dipende questo dal è un discorso un po' più complesso che fa parte dell'economia di un token o meglio tokenomics volgarmente detta tokenomics cosa vuol dire vuol dire che in sostanza il team che c'è dietro dovrebbe sempre lavorare verso la creazione di valore per il suo token e la sua coin come fa a fare questo vabbè innanzitutto gli da degli use case sensati quindi deve la coin deve avere un perché cioè tu crei una coin gli devi creare una struttura intorno al fine di aver senso utilizzarla e detenerla degli incentivi dei vantaggi dei benefit dei casi d'uso delle interazioni con la piattaforma e così via in seconda battuta si può giocare sull'equilibrio domanda offerta cosa vuol dire vi faccio un esempio stupido una coin proof of stake tu la depositi sul wallet la metti in staking cresce ti dà rendita genera inflazione se ti dà rendita del 20% annualizzato significa che l'inflazione annua se tutte le coin fossero in staking sarebbe del 20% quindi quello va a generare nuova offerta e va ad abbassarne il valore ok un bene più per il quale ce n'è di più vale meno la moneta se stampano un trilione di dollari dal nulla perde di valore ok perché ce n'è più circolante quindi dall'altra parte bisogna lavorare sulla riduzione dell'offerta la domanda ripeto la dagli use case quello che abbiamo detto prima l'offerta da un lato l'immissione e dall'altro la distruzione quindi ad esempio dei business model efficaci come quello di BNB di FTT e di altre coin proprio puntano sul andare a distruggere parte delle supply con i cosiddetti burn ovvero Binance ogni trimestre va a riacquistare una parte della supply circolante in base al suo profitto e la distrugge cioè porta via supply in questo modo il valore aumenta a parità di domanda ok questo è un equilibrio molto delicato ma molto importante proprio per generare valore sul token soprattutto a lungo termine perché se si porta avanti sul lungo termine un discorso di questo tipo diventa preponderante cioè assolutamente fondamentale bene poi 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 cosa ne pensi di Signal e la privacy coin non farà le scarpe a Whatsapp bravo ma hai fatto venire in mente che c'è una notizia che non ho detto ovvero che Signal che è l'applicazione di messaggistica istantanea privacy oriented se ne ha parlato molto nel periodo in cui Whatsapp aveva aggiunto i nuovi termini e condizioni dove diceva che c'era più cioè mandavano più dati a Facebook e così via più invasivo e allora tutti dicevano scaricate Signal che è più privata non so se vi ricordate ecco recentemente è uscita la notizia che aggiungerà nativamente nell'app una possibilità di inviare denaro quindi una forma di pagamento utilizzando una privacy coin specifica non monero non monero ma mobile coin che io ignorante non la conoscevo non so non so voi se la conoscevate prima di oggi però vi faccio vedere che cos'è successo dopo l'annuncio giusto per farvi capire mobile coin oggi ha già dampato vabbè lasciamo stare questa sconosciuta valeva 5 dollari e 50 è arrivata a 55 e oggi vale più o meno la metà quindi vabbè mi puzza anche questo di pump and dump privo di senso però c'è stato un po' di hype io ripeto non la conosco da come viene descritta da signal è una coin molto semplice da usare non lo so privacy oriented è semplice da usare sono le due caratteristiche che va a evidenziare ripeto non la conoscevo neanche non l'ho approfondita non so se qualcuno di voi la conosce o la conosceva impermanent loss potresti farci un esempio di come si calcola in maniera precisa grazie assolutamente sì molto rapidamente perché se no vi annoio a morte è un tema abbastanza noioso ci sono dei simulatori di calcolo della dell'impermanent loss uno dei quali stavo cercando di pensare dove era su coin market cap yield farming se non ricordo male ci dovrebbe essere eccolo qua impermanent loss calculator mi ricordo bene allora allora wow venus 6 miliardi di dollari di tvl nel frattempo incredibile la bsc cioè sta veramente sbancando lato defy sta sbancando tutto vabbè scusate non vado off topic impermanent loss calculator come funziona allora di solito io presumo che tu la voglia calcolare perché vuoi fare da liquidity provider in un pool nei classici pool pancake swap uniswap sushi swap eccetera c'è la classica distribuzione 50 e 50 che è quella che vedi di default nel calcolatore ok quindi va lasciata così asset 1 e asset 2 sono i due asset all'interno del pool prendiamo un esempio semplice ethereum usdc ovvero uno dei due è stabile quindi usdc price change sarà 0 ethereum cosa metto di price change dipende nel senso supponiamo che tu vuoi andare a dare liquidità e farti un'idea di quanto andrai a incorrere in impermanent loss se ethereum pompa del 30% dal momento in cui tu entri nel pool al momento in cui tu porti via la liquidità dal pool conta solo il momento iniziale e il momento finale quello che accade in mezzo non importa ok se ethereum pompa del 30% tu avrai un impermanent loss dello 0,85% sull'intera liquidità ok quindi se tu hai messo 10.000 dollari 5.000 usdc 5.000 ether tu avrai se ether pompa del 30% lo 0,85% di 10.000 che è 85 850 non lo so è troppo tardi per fare calcoli anche così semplici però questa è la tua percentuale se fa meno 30% 1,57 in negativo pesa di più ok questo è il calcolatore di impermanent loss se tu hai entrambi gli asset volatili chiaramente devi andare a mettere dentro la proiezione di cambio di entrambi gli asset l'uno sull'altro ok bene poi 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 andiamo a vedere un po' la situazione defi adesso mi sono incuriosito defi station e defi puels ethereum versus bsc bsc incredibile 23 miliardi in continua crescita ethereum anche ethereum eh 51 miliardi abbiamo bucato i 50 benone la defi cresce c'è niente da fare compound 10 miliardi quasi maker e uniswap 5,92 invece pancake 5,98 testa testa tra pancake e uniswap va bene basta chiusa la parentesi dunque 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 vediamo ancora un paio di domande poi grafici a manetta perché è il momento credo abbiano annunciato il listing di one inch engine e altre su coinbase guarda che bei pump in diretta ah è la la one inch vola vola tra l'altro vi ricordate il setup che avevamo visto ieri neanche a farlo apposta è stato ritestato e e ha rimbalzato in maniera pazzesca dunque dicevi one celsius anche lui per caso engine vola anche lui che tanto per cambiare come se non fosse volato abbastanza andiamo a vedere coinbase listing vediamoli in diretta vediamoli in diretta dunque 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 qua però non non c'è vediamo sul blog di coinbase le ultime novità così vi dico tutte le nuove coin listate allora vediamo abbiato un attimino di eccole qua one inch engine nkn e origin token origin token era quello di origin dollar mi pare la stable coin che accumulava accumulava interesse bene questi quattro ottimo sappiatelo ecco sapevatelo notizia in diretta fresca fresca grazie per la condivisione poi 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 vediamo un po' le ultimissime domande da dove parto per mettermi al passo con i tempi e caro mio dal seguire un po' di notizie un po' di cose un po' c'è da starci dietro ogni giorno c'è da recuperare un po' quello che è accaduto come sono cambiate le categorie cioè il mondo della defile gli nft questi nuovi trend che dire non so non ti so rispondere purtroppo immaginatevi facciamo un gioco con voi date qualche commento cioè scrivete qualche commento per consigliare al nostro amico che ci segue ci chiede ipotizzate che c'è un buco nero di tre anni lui non fa non opera più in cripto dei tempi di mt gox quindi si parla di anni è ritornato oggi che consigli gli dareste per rimettersi al passo con i tempi dai sbizzarritevi perché voglio sentire la vostra opinione mentre voi vi sbizzarrite io vado a vedere un po' di grafici ok stavo dando un'ultimissima scrollata ta 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 ok guardarsi le mie ultime live degli ultimi tre anni ma probabilmente tempo che le hai viste tutte talmente c'è della quantità uno fa già in tempo a essere vecchio ecco probabilmente si invecchia guardando i miei video comunque un sorso d'acqua ne ho bisogno scusate eccoci ero totalmente arso e adesso possiamo cominciare a dare un'occhiata ai grafici partendo da bitcoin cosa ci combina bitcoin allora ci combina che abbiamo la solita resistenza che di nuovo fa il suo lavoro ovvero la resistenza stiamo parlando dei 60 59-60 mila questo pool di offerta rosso ok è il solito ne parliamo da secoli e non ci dovrebbe stupire più di tanto perché di fatto ci andavamo a cozzare 1 2 3 4 5 6 6 mille milla volte ci abbiamo cozzato sopra ecco quindi finché non viene rotto questa è una resistenza molto significativa quando verrà rotto diventerà un supporto altrettanto significativo quindi cerchiamo anche il rovescio della medaglia una volta recuperato caspita quello è un segno veramente veramente strong fino ad allora non si può che prendere atto del fatto che è ancora una resistenza ci troviamo quindi sotto di essa però il fatto che ci vada a respingere di per sé non è un segno di inversione del trend di inversione del mercato o men che meno di crollo cioè questo non è un crollo questa è una flessione diventa un crollo se mi va a fare a perdere altri supporti più importanti che adesso vediamo il primo che in realtà è molto vicino è quello dei 55.600 adesso cancello un po' ste porcherie e ve lo evidenzio questa linea gialla ok 55.600 che è il supporto originato esattamente da questo primo rimbalzo abbastanza puntiforme e da allora oddio si è stato testato una volta come supporto qui come resistenza qui ha fatto un po' da trattore le ha fatte un po' tutte però al momento è il primo supporto se vi dico il caso più bullish possibile immaginatevi questo se non lo andiamo neanche a testare e già si presenta domanda che ci riporta qua su super bullish cioè neanche da preoccuparsi da assolutamente super bullish ripeto in particolare se andiamo a riprendere se vogliamo andare a dare un altro riferimento anche per questo i 57100 che è questo precedente low che sul brevissimo perché sul brevissimo altrimenti possiamo dire di aver fatto un lower low se ce lo andiamo subito a riprendere bam via massimo soprattutto se la candela di oggi ci va a chiudere qua sopra immaginatevi che bello che sarebbe cioè sarebbe un tentativo di lower low non riuscito in un quadro bullish sarebbe veramente il massimo del bullish quindi diamogli innanzitutto il tempo di chiudere la candela giornaliera e di vedere che cosa fa prima di strapparci i capelli e in seconda battuta vediamo anche la reazione di domani perché di solito c'è la candela e il follow up se la candela chiude bearish e il follow up è di offerta allora vabbè si può iniziare a dire orco cane se al contrario la candela è una via di mezzo tipo ora e il follow up è bullish allora non ha neanche senso preoccuparsi se il follow up è bearish dipende da quanto lo è insomma bisogna andare a iterare avanti di un giorno l'analisi per il momento concentriamoci sul presente quindi 55.600 è il primo livello che se rimane non violato è un segno positivo perché è il primo low che storicamente funge da base e quindi rimane questo scenario di ipotetico test e spalle rovesciato che dicevamo se lo perdiamo la situazione non è che si va a complicare più di tanto perché abbiamo beh qua sotto quest'altro supporto in zona 54.250 e qua sotto abbiamo anche un bel pool di domanda se ci fate caso perché guardate anche qui come ci siamo comportati c'è stato un tentativo di violazione di questo supporto e poi la domanda ci ha riportato immediatamente sopra e potrebbe tranquillamente accadere una cosa del genere quindi facciamo un'altra ipotesi un'ipotesi di vedere un tentato dump fino a qua sotto e un riassorbimento che ci porta a chiudere qua sopra questo sarebbe un quadro a mio parere bullish quindi positivo e quindi questo è il secondo supporto da tenere sotto controllo assieme a tutto il pool di domanda quando è che la situazione invece volge al brutto allora la situazione volge al brutto se vengono persi tanti supporti importanti viene fatto un lower low su larga scala oppure se c'è una palese predominanza dell'offerta questi tre fattori di solito sono quelli più rivelatori di una situazione poco piacevole in questo caso qual è la probabilità di ognuno di essi allora il fattore più probabile al momento dei tre che accade è la predominanza dell'offerta perché se la candela di oggi ad esempio dovesse chiudere bella piena così tutta rossa e domani avessimo un'altra candela rossa così avremo una due tre candele a fila rossa e quindi predominanza di offerta e questo è un primo segno non piacevolissimo se al contrario oggi chiudiamo così e domani è verde per dire capite bene che non c'è nessun tipo di particolare predominanza sì l'offerta è leggermente più forte ma la situazione complessiva è ancora abbastanza in equilibrio perdita di supporti l'abbiamo detto 55.600 e poi a scendere 54.200 se li perdiamo entrambi non è bellissimo anche se vi dirò proprio di più la cosa peggiore in assoluto cioè il quadro non è troppo ribassista fin tanto che non andiamo a perdere quest'altro low nel senso immaginatevi anche facciamo quest'altro sforzo di immaginazione uno scenario brutto ma non dei peggiori quindi andare a perdere anche questo livello ma poi ricominciamo a salire come la vedete io non la vedo male certo bisogna anche risalire perché se invece perdiamo questo livello poi rimbalziamo un po' facciamo un bearish test e andiamo avanti a ribasso ok fa schifo però questo per dire che il solo anche perdere questo livello non basta a invertire a parlare di crollo a parlare di scenario apocalittico per parlare di scenario apocalittico ci vuole un lower low ok quindi il lower low sarebbe quello che ci permette di dire panico in versione di struttura situazione molto meno piacevole al contrario fin tanto che ciò non accade ci sono diverse possibili posizioni una le abbiamo parlato ieri ovvero la possibilità di entrare dicevamo in tutta quest'area potenzialmente oppure dunque ma dipende perché c'era un approccio più speculativo che prevedeva un ingresso non mi ricordo mi sa che io vi ho condiviso tra le due idee quella meno speculativa quindi non questa comunque a me erano passate in mente due cose uno più speculativo con un entry distribuito qua e uno stop loss qua sotto e uno meno speculativo quindi più ad ampio spettro più ad ampia veduta con un entry distribuito qua e lo stop loss sotto i minimi che è quello che dicevamo prima cioè se andiamo a chiudere delle candele qua sotto sotto i vecchi minimi allora non va molto bene perché abbiamo la struttura che di fatto tende di più al ribassista ma fino ad allora la struttura rimane esattamente quella che è al momento un potenziale triangolo ok rialzista più o meno con qualche anomalia però l'idea è sempre quella ok quindi al momento coseno di poi adesso ripeto secondo me vi avevo detto anche ieri questa possibilità se non ricordo male però l'altra era più speculativa col senno di poi di oggi quella delle due che si presta meglio al momento è quella più distribuita con un entry che va a scavare fino a quest'altro supporto e uno stop loss bello largo sotto a questo minimo sotto i 50.000 se vogliamo tenere il supporto psicologico come come livello chiave in chiusura della candela per evitare gli stop hunters e e poi capite bene che il rischio rendimento diventa anche abbastanza favorevole diventa che il possibile rischio è questo e il possibile rendimento se poi la posizione diventa trend follower e abbiamo il breakout da questa situazione accumulativa se si verifica come tale è molto più alto ok e quindi stiamo andando a inquadrare una situazione a rischio rendimento favorevole su un setup che ha un cosiddetto rischio di posizione ovvero probabilità di riuscita stimata favorevole perché abbiamo massimi crescenti abbiamo un macro che è molto bullish abbiamo questa sorta di triangolo rialzista e così via quindi ci sta andare a cercare la posizione long e e quindi ecco è un trade che ha senso questo non vuol dire che c'è garanzia che vada bene che sia chiara questa cosa perché non voglio poi sentirmi dire se la posizione va in stop loss e ma tu avevi previsto che no vi prego non ditemi questo perché ci rimango malissimo vuol proprio dire che il mio messaggio non è stato compreso ma proprio dal punto di vista fondamentale cioè non è una predizione è uno scenario uno scenario favorevole sì secondo me certo assolutamente no perché di certo nel mercato non c'è niente di niente ok questo è importante da capire quindi ricapitolando bullish scenario lo scenario più bullish possibile è un rientro qua già da oggi quindi chiusura sopra i 57.000 già da oggi bullish a manetta e scenario neutrale chiusura qui o comunque chiusura sopra 55.600 facciamo questo è neutrale poi chiusura tra i 54.200 e i 55.600 neutrale con una parte un po' più bearish poi chiusura tra il low e i 54.200 caspita beh già con la candela di oggi vedere una chiusura qua qua si parla già di predominanza di offerte quindi è già tendente al bearish seppure non abbiamo fatto un lower low poi per il resto cioè se già oggi chiudiamo con un lower low qui vabbè è una tragedia ma spero che non accada spero vivamente che non accada altra cosa importante è la lunghezza della shadow che non abbiamo discusso oggi ma ne parliamo molto spesso fondamentalmente se abbiamo ad esempio un tentativo di breakdown da qui poi riassorbiamo e ritorniamo qua in alto e chiudiamo qua abbiamo una shadow così lunga e abbiamo una candela risultante dominata dalla domanda quindi una candela estremamente bullish ancora più bullish ok paradossalmente poi questo è tutto su bitcoin bene semplicemente abbiamo visto un po' tutti i casi e addirittura un setup possibile poi 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 cos'altro abbiamo ethereum visto che ne abbiamo parlato anche ieri e anche poco fa guardate tra l'altro avevamo abbozzato anche un possibile setup dato da questo pool di liquidità in domanda rimane valido ancora questo setup anche se è stato già pescato proprio oggi stesso in sostanza al momento ethereum ha completato apparentemente questa w questo setup questo costrutto di bottom scusate abbiamo quindi gli 0.035 come supporto locale e pool di domanda sottostante fino a 0.0345 questa area è esattamente un entry possibile sul range low sui falsi breakdown da range per chi ha seguito il mio video sull'operatività nei range stop loss sotto il supporto precedente qua sotto tac chiusura di candele qua sotto chiusura posizione perché di fatto significherebbe che il breakout è sicuramente anomalo falso invalidato e al contrario poi la continuazione rialzista è sicuramente un catalizzatore di uptrend quindi questo è ethereum che altro che altro che altro allora la dominance oggi ha già fatto un bel rimbalzone ieri abbiamo parlato di alt season oggi già tutte le alte sono in rosso ma il quadro non cambia cioè guardate il trend è modificato della dominance a me pare di no quindi prima di allarmarsi anche su quello contestualizziamo le cose il trend rimane favorevole alle altcoin fino a prova contraria domani per chiarezza ho deciso che faccio uscire un video dove parlo di come andare a individuare l'alt season come capire quando inizia quando finisce come andare a capire come muoversi a riguardo ecco fare una cosa un po' completa del mio punto di vista in modo da dare una lettura inequivocabile di quello che dico e poi che andremo a richiamare nei prossimi video evitando quindi di doverla ripetere anche ogni volta per il resto non lo so ditemi voi se volete sapere qualcos'altro avete altri dubbi eccetera eccetera come si mette stop loss a chiusura candela si usa un bot fondamentalmente o ti metti l'alert e lo chiudi a mano però è scomodo perché a luna di notte non è piacevole o altrimenti che dire sì ci sono tanti tante automazioni tanti bot alcuni anche gratuiti che ti permettono di farlo miglior piattaforma per fare trading senza leva ma io mi trovo molto bene su Binance FTX dunque stavo pensando Binance FTX direi che sono già più che sufficienti poi 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 dunque vediamo cos'è qui qualcuno si è offeso per cardano vedo nominare cardano io speravo non fosse più necessario ripeterlo ma il video che avevo fatto ha venduto tutti gli etere un per cardano era un pesce d'aprile gigantesco ma cioè non ditemi che non si capiva vi prego perché perdo la fiducia nell'umanità se mi dite così ci fai vedere dot andiamo a vedere dot dai chiudiamo con dot dot bitcoin allora dot bitcoin che di per sé non sta andando affatto male allora guardate qua avevamo identificato questo bel setup che ha dato dei bei frutti perché poi ha accumulato e fatto uptrend al momento sta ritracciando dopo questo rischiosino questo higher high di poco però anche il ritracciamento non sembra troppo aggressivo quindi se il ritracciamento si ferma 66.000 quindi questo supporto potrebbe essere un rimbalzo per poi continuare a crescere altrimenti se va a cercare il low da queste parti dobbiamo insomma cercare di capire se vuol fare un higher low oppure no quindi andare a cercare dei segni di domanda su questo punto 66.000 su questo punto 60.500 se perde anche questo ritorniamo nello scenario potenzialmente accumulativo ma con un rischio perché abbiamo immaginatevi una cosa così abbiamo un potenziale doppio massimo e quindi se poi andiamo a perderlo il doppio massimo diventa un costrutto di top quindi è un po' un punto esclamativo di pericolo amici questo è quanto direi un'ora e zero sei è più che sufficiente io vi faccio un carissimo saluto vi ringrazio di essere stati presenti e carichi anche oggi anche due giorni di fila noi ci rivediamo in live questo venerdì come sapete gli appuntamenti vanno avanti incondizionatamente ci rivediamo venerdì alle ore 18 sempre qua su Twitch mi raccomando sempre carichi sempre gasati e vediamo nel frattempo che cosa ci avrà combinato questo Bitcoin vi faccio un carissimo saluto e di nuovo alla prossima